we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder e ragazzi lo vedete alle mie spalle è stato scoperto l'evento di loot lake che prestissimo arriverà per tutti su fortnite ovviamente vi voglio dire due cose abbiamo un video vi faccio vedere il video tra poco incredibile ragazzi non guardate la location che vedete dietro alle mie spalle dovete solo guardare le animazioni perché si utilizza la modalità creativa per far vedere a tutti le animazioni inserite in game e come vedete ragazzi l'oggetto centrale quello che già vediamo in questi giorni spento sarà fortemente illuminato ma la cosa più incredibile sono questi pilastri che vi avevo già mostrato quando abbiamo scaricato la patch 8.50 e che finalmente ci fanno capire che cosa sono ragazzi sono relativi ogni pilastro ad un oggetto rimosso dal gioco e probabilmente saremo proprio noi player in tutto il mondo a scegliere l'oggetto che tornerà in game voglio ragazzi un milione di pollicioni in su per questo video mi raccomando è iscrivetevi al canale ma andiamo a vederlo eccolo qua voglio togliervi anche il mio logo in alto in modo che lo vedete chiaramente e guardate che spettacolo vi ripeto di nuovo non guardate lo sfondo del verde immaginate di essere a loot lake aeroplano nel primo nel primo pilastro tommy gun nel secondo mitraglia tattica nel terzo rampino nel quarto bouncer nel quinto e infinity blade nel sesto incredibile anche questa scrivania l'avevamo già vista quando abbiamo scaricato la patch 8.50 ma nessuno aveva capito in realtà che cosa significasse nel cielo ci sono cinque o sei sole addirittura comunque uno ognuno relativo a un pilastro stiamo ragazzi cercando di capire quale sarà quale sarà la modalità con cui potremo scegliere un oggetto da riproporre in game insomma una cosa incredibile questo è ragazzi l'evento finalmente ufficiale di loot lake io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando codice creator xyuderone nello shop noi ci vediamo presto in live ciao non parte l'altro mi raccomando codice creator xyuderone nello shop noi ci vediamo presto in live ciao mi raccomando codice creator xyuderone nello shop noi ci vediamo presto in live